L'Unione Europea aveva avvertito il governo Johnson dopo che il 9 settembre era passata al Parlamento Britannico una legge con cui la Gran Bretagna si attribuiva il diritto di cambiare unilateralmente i termini dell'accordo di uscita dall'Europa. Anche il ministro britannico per l'Illanda del Nord aveva avvertito Londra delle possibili conseguenze della legge risultanti in una violazione del diritto internazionale. Questa mattina il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato di aver inviato una lettera di messa in mora a Londra per aver violato gli obblighi dell'accordo di recesso. Ora il Regno Unito ha un mese di tempo per rispondere al procedimento formale di infrazione, ma il governo Johnson non sembra intenzionato a fare marcia indietro. Tema della disputa legale è la legge sul mercato interno, approvata da Westminster, che violerebbe la parte relativa alla questione del confine tra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Scaduto il mese di tempo, l'Europa avvierà un'azione legale per violazione dell'accordo, che prevedeva un mercato unico europeo anche in Irlanda del Nord, per non creare di nuovo un confine tra Belfast e Dublino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.